D'oro tutto tutto Già iniziata Da dietro Da dietro Da dietro Ciccio D'oro Ci sono Dossi Iniziare Dio Di Dio 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 Sì, è vero una fiazza. Algo perde il terreno 60 secondi e rimasti ok Sì, scusate! Sì, scusate! Sì, scusate! Guardate queste cose con diga! Vi abbiamo proprio un po' di altro! Sì, scusate! Sì, scusate! Sì, scusate! Mi f***a! Sì, scusate! Sì! 20 secondi rimasti! Molto a terra e terreno! Bombardamento di precisione nemico! Giù! 10 secondi rimasti! Eh, non avevo tutte le piastre, mannaggia! Dai, dobbiamo bloccargliela! Avanzare quei carichi! Alfa in movimento! Dai, 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 dai! GG! GG! Grazie a tutti!